Calcio, pallavolo e tennis in primo piano nel sommario della pagina sportiva. Apriamo con il calcio dopo la bella e convincente vittoria sulla Fezzanese di domenica scorsa. La lucchese ha ripreso la preparazione in vista della gara che vedrà i rossoneri di scena sul campo della capolista caronnese. Ancora fuori Ligoria, le prese con uno stiramento, il tecnico Monaco spera di recuperare perlomeno il centravanti Falomi. Probabile la conferma del modulo 4-2-3-1. Naturalmente siamo all'approccio di una nuova settimana e quindi c'è tutto il tempo per capire come la Pantera intenderà affrontare una partita che si presenta molto difficile. Intanto sono sette risultati utili consecutivi, quattro vittorie e tre pareggi, 15 punti, che hanno modellato una classifica più consona al blasone ma anche al valore di questa squadra. Intanto la società ha annunciato che giovedì alle ore 12 si terrà una conferenza stampa al Porta Elisa con importanti notizie societarie da comunicare. Vedremo appunto di cosa si tratterà. Vi annuncio anche che giovedì sera, ospite della 14esima puntata stagionale di Curvo Ovest, ci sarà il giovane centrocampista Filippo Fazzi, già autore di due reti anche del 2-0 di domenica contro la Fezzanese. Scendiamo in eccellenza, mercoledì alle 14.30 si gioca il recupero tra Massese e Camaiore, partita interrotta lo scorso 17 novembre, al 39esimo del primo tempo sullo 0-0 per un infortunio muscolare occorso all'arbitro Giordano Di Grosseto. Il Camaiore reduce dal pareggio a reti bianche con il tau calcio, mentre la Massese domenica scorsa ha pareggiato a sua volta 1-1 sul campo del San Mignato. Una vittoria proietterebbe Blu Amaranto Camaioresi al terzo posto della classifica. Vi ricordo che si ricomincerà proprio dal 39esimo minuto del primo tempo. L'Italia batte il Messico per 6-2 nella terza partita del girone eliminatorio ai campionati del mondo di beach soccer e affronterà adesso nei quarti di finale la Svizzera. Protagonista sontuoso e assoluto del match il viareggino Gabriele Gori, un autentico fuoriclasse del beach soccer che ha segnato, pensate, 5 delle 6 reti azzurre e si sta confermando, è il capocannoniere del Mondiale con 13 reti, nettamente, uno dei più grandi giocatori al mondo. Forse, aggiungiamo noi, avrebbe meritato anche il pallone d'oro. E adesso parliamo di pallavolo perché nel campionato di B1 femminile c'è una Nottolini davvero in splendide condizioni di forma. Ancora una grande vittoria della Bionatura Nottolini che si conferma ad eccellenti livelli in questo avvio stagionale. La formazione di coach Sandro Becheroni passa infatti anche sul campo della Claimola e stavolta lo fa in modo netto e perentorio come confermano i parziali a favore della Bionatura 25-19, 25-22, 25-20. Un successo netto, maturato grazie ad una prova superlativa di tutto il complesso, anche perché riuscire a vincere sul campo dei limolesi è l'impresa tutt'altro che agevole, almeno in questo modo, è affatto scontata. Dunque, dopo due vittorie al Tebrec, ma contro avversari di altissimo livello, altri tre punti che vanno a corroborare morale e classifica di tutto l'ambiente capannorese. Grazie a questo nuovo successo e ad una Sofia Ranieri davvero superlativa, la migliore in campo, adesso la Nottolini comincia a sognare, anche se dal presidente Paolo Gradi in giù, tutti vogliono rimanere col piedi per terra. La classifica suggerisce di un quarto posto a ridosso della zona play-off, ma con una gara in meno avendo di fatto già osservato il proprio turno di riposo. Il girone infatti è dispari a 13 squadre, intanto smaltita la soddisfazione per la vittoria di Imola, già ci si concentra sul prossimo severo impegno. Sabato prossimo alla pala Piaggia ci sarà infatti il big match contro il forte Castelbellino di Ancona, che precede la Nottolini di due lunghezze in terza posizione. Occasione ghiotta per tentare il sorpasso, perché no? Buone notizie anche dal campionato di Serie C di rugby, dove il rugby Lucca vince ancora fuori casa. Il 15 di Matteo Giovannico è andato ad imporsi sul difficile campo del Ponte d'Era, del Bellaria-Cappuccini-Ponte d'Era, 18 a 7. Adesso Lucca è al secondo posto in classifica, ma la possibilità di riconquistare la vetta ci sarà già domenica prossima, quando al Bernardo Romei i rossoneri ospiteranno il Pistoia, calcio d'inizio alle 14.30. La ginnastica ritmica, Raffaello Motto protagonista ancora una volta in Italia, ma anche all'estero. Chiara Vignolini, la vediamo in questa foto, la capitana conduce al secondo posto la società Sport Ritmic nella seconda divisione della Liga Iberdrola, il massimo campionato spagnolo di ginnastica ritmica. Inoltre la società Via Regina continua a collezionare risultati di pregio in giro per l'Italia, successi e po' di arafica nelle finali del campionato nazionale di specialità Gold, disputati a Foligno. La Motto si sta confermando davvero in questa specialità, una delle migliori società d'Italia. Ed ora siamo al tennis, dopo tante note positive e qui invece non c'è molto da ridere perché il circolo tennis Luca Vicopelago purtroppo ha seriamente compromesso la possibilità di accedere alla finale del Palatagliate. Ora il sogno è davvero lontano, quasi un incubo dopo la netta sconfitta 0-4 patita in casa dal Genova nel match di andata della semifinale Scudetto. Il circolo tennis Luca si lecca le ferite e rimane appesa ad un esile filo di speranza, andare a vincere con lo stesso punteggio domenica prossima sul campo delle Liguri che francamente pare operazione da Mission Impossible. La partita è stata anche combattuta, anzi le partite giocate al coperto sono state equilibrate ma alla fine l'hanno spuntata sempre le ospiti. Tre singolari e un doppio, cominciavano le numero due, Bronzetti per Genova e Jessica Pieri per Lucca. Partita combattuta almeno nel primo set ma Jessica sconfitta 7-5-6-3. Secondo incontro tra le numero uno, ovvero le due russe, Samsonova per Genova e Valentina Evachenko per Lucca. Anche in questo incontro grande equilibrio ma la vittoria andava ancora a Genova 7-6-6-4. Terzo incontro tra le numero tre, l'esperta Brianti e Tatiana Pieri. Purtroppo l'esperienza e il tocco della Brianti con un periodico 6-3 portavano Genova sul 3-0. Si chiudeva con il doppio, Brianti-Samsonova contro Jessica Pieri-Vachenko, ribadito il copione di tutti gli incontri precedenti con un costante equilibrio ma il risultato arrideva ancora alle ospiti 6-4-7-5. Incontri di buona fattura tecnica dove ha prevalso la maggiore potenza e la stazza fisica delle genovesi. Erano presenti circa 140 persone, tra cui anche una trentina di supporters da Genova. Ottima giornata per il tennis e per gli spettatori. Ora al ritorno che per Lucca si presenta a dir poco arduo, domenica 1-1 a Genova, il palatagliate si è allontanato, ma i dirigenti del tennis club Lucca sono comunque contenti di aver vissato per il secondo anno consecutivo le semifinali nelle prime due apparizioni nel campionato stesso. Lucca, come detto, dovrebbe vincere 4-0 per andare al doppio dispareggio. Impresa titanica, ma provarci non costa nulla. Jose Can Viareggio, in grande evidenza la World Cup di Karate, svoltasi a Montecatini Terme, in gara 1200 atleti di alto livello. I karateka guidati da maestri Gasperini sono riusciti a salire più volte sul podio conquistando ben sei medaglie a coronamento di una stagione agonistica iniziata davvero nel migliore dei modi. Ancora un'importante affermazione per la scuola di Karate Viareggina dei maestri Crealbe e Iuri Gasperini, che continua la propria scesa anche in campo internazionale portando davvero in alto il nome del Karate Viareggino. Ed è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Vi ringrazio per averci seguito. Dopo una breve pausa il TG si completa con la terza ed ultima parte. Grazie. Grazie.